Questo è un nuovo video Ok Stavo caricando ma poi a un certo punto si è bloccato Ho detto ok, allora inizio la registrazione Mi si bloccano Apriamolo, questo Dai un lingotto No, non mi interessa questo Troppo poche appare Vediamo cosa c'è qui Allora, questo mi interessa Questo e questo Oppure questo Mi interessa Allora dai forse Due ore e mezzo ci sta Sono un po' stai di 50 minuti Di qua la marmellata Quanto ci mette? Un'ora e mezzo Quanto è passato? Sempre 50 minuti Ho fatto tutto 50 minuti di qua E' un po' di 50 minuti Ah certo per questo Perché ho fatto il momento Dimentico tutto Ok Decorazioni Ho espanso quello Adesso dobbiamo metterci il marciapiede Vediamo questo agli amici Gli ultimi Deve rimanermene uno Infatti da Piacenza Adesso Adesso Torniamo Ritorniamo A Touch Play Lo faccio sempre Così che da me ce l'hanno Tutti Una volta Ogni tanto Allora per questo non ti posso aiutare Perché c'è la cosa io Per questo forse Cerco sempre di aiutare tutto Uno perché mi danno i quadriponi E poi anche perché Bella aiutare gli altri Dunque non è già nato Vediamo l'ultimo Chi sarà il fortunato? Boh Io lo so Nessuno Di quelli che ho guardato Nessuno sarà il fortunato di oggi Non ho questi Ce ne erano Sì Li prendo Ho le carote Il granaio Vuoto Ho detto vuoto? Tiè Non ho ortaggi Ma stiamo scherzando Togliamo un po' di pesche Un po' di olive L'anguria Di seta Ne ho ancora tre Perché Ho spaccato Ok Porto subito Prendiamo le cose che ci sono Partendo da qua Il granaio è pieno Allora Queste fragole Sono messe male Ma da d'oro Ho tolmene Tutti gli ortaggi che ho Tutti Sono seri Tutti Trendo quelli che ci vogliono Una vita Tipo questo che ci vuole Dieci minuti Si può Questo che ci vuole Un minuto Si può Tu che mi servi No Il mais Che ci mette Cinque minuti Certo Quelli che ci ho letto La mezz'ora Non più Non si può più Aspettiamo qualche minutino Il tempo Che queste fragole Per quelle dieci minuti E nel frattempo In questi dieci minuti Non si sa assolutamente Niente Perché Tutto tutto Allora Una di lana Ce l'ho Si la lana Mette un po' lì in conto Ce l'ho La plastica E il brownie No Vediamo Cosa ci vuole Per il brownie Burro Burro Si ce l'ho Il latte Il burro Per il brownie Ce l'ho Vediamo qua Se ce l'ho La gomma Si Ce l'ho Quindi La posso fare Ok Quindi Per te siamo a posto Tutto sto facendo Per te serve Burro E bottiglietta di plastica Bottiglietta di plastica Non ne ho Abbiamo detto no Quindi poi dopo Per te pure E poi il burro In questo momento Non ho molto latte E poi anche Devo fare Però si Te lo posso fare Allora Te no Perché Serve la marmellata Di fragole Allora Questo si Tieni Per te va bene Allora Le patatine fritte Vediamo le patatine fritte Dove si facevano Qui Mannaggia Ci vuole la crema Però non ho proprio Due di crema Sì Un po' di crema La dobbiamo fare Patatine fritte Non apri il pomodoro Ebbè tanto ora Lo faccio Sto facendo Allora Quindi per te Le cose stanno iniziando A fare Il ghiacciolo Hamburger Questa No Troppo difficile Uno di lana Prendiamo subito Perché così Te lo do Tieni Poi prendiamole Queste cose Quanto ci vuole Ancora Sette minuti C'è un uovo Ho bisogno Di un gomitolo Di lana Ma se ci sono ancora Sì Ok E lo faccio ancora Lo facciamo Lo facciamo Ancora Perché Ancora Allora La carta È un giocattolo Che serve Gomma e plastica Sempre dopo La risposta Sempre dopo Giusto Sì Me lo ricordo bene Anche un mio obiettivo È arrivare qui 5000 Molto difficile Questi In ogni caso Li faccio dopo Ma questo Mi serve Tutto questo Terreno Almeno un pochino Perché mi serve Vabbè Iniziamo con Il grano Sì Quello che c'è Di me È così Che lo faccio Più velocemente Faccio così Si salta quello Deve essere C'è Di 10 minuti Vabbè Lo devo fare Ce ne saranno In ritardo Però io Lo devo fare La canna Ma dal zucchero Ci mette Già 20 minuti Tantino Il cotone Ci mette Mezz'ora Questa di solito È sempre Quella delle fragole Però ci voglio mettere Un'altra cosa Una che Mi interessa C'è La seta 15 ore C'è Un sacco La seta Fragole Non ce ne metto Per mettere La seta Perché tanto Fragole Ne ho appena Fatto Un sacco Capisco Che mi serve Per questo Ma me ne servono Allora Due Già stanno facendo Quindi Togliamone Sei Più una Che già ho Nove Me ne servono Sette più tre Dieci Credo Per certa No Costa tutto Un sacco Qua Un sacco Così Così Ecco Ah Quattro di grano Vuole Subito Li riprendo Non è bolso Di pena Prendermene Altri Da qua Perché Del resto Poi Mi paga 135 Mi paga Prima di La seta Oh Proprio Quattro Ne ho Sono rimasta Di nuovo Senza Grano Adesso Il gelato Mi viene Più Difficile Già 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 Il gelato È più difficile Però Però Lo posso fare Zucchero Non Ed è una cosa Che Non è per niente Bella Che ci vuole Per rifornirlo Non mi serve Aiuto Qui vediamo La carta E il ghiacciolo E il ghiacciolo No Non ho Frog Che in questo momento Servono Guarda Prima Qui è un po' Difficile Per tutto Secondo Non c'è Androva Poi Anche lo pago Per poi Avere i soldini Verdi Vabbè Pianterò Pianterò Tutte le cose Nel prossimo video Ci vediamo Ciao Per iscrivervi al mio canale E mettete like E attivate la campanellina Per non perdermi Nel prossimo video Ciao